Ormai siamo arrivati al ventesimo anno, siamo sempre con tante persone, la sera domani sera cominciamo alle 19 e speriamo come tutti gli anni che ci assista pure il tempo perché noi siamo un po' in montagna quindi dobbiamo sperare sempre col tempo, comunque in questi anni ci hanno assistito pure molte persone ci vengono a trovare da tutte le parti della provincia di Teramo, speriamo che continui così e speriamo che soprattutto i giovani continuino su questa tradizione perché noi siamo ad una certa età io sono uno dei più giovani lì in mezzo quindi speriamo che i ragazzi ci continuino a dare una mano nel futuro che siamo un paese un po' piccolino, siamo del comune di Torricella Sicura come dicevo prima però le persone sono quasi tutte anziane quindi questo è un prodotto che prima i nostri contadini, i nostri anziani i miei nonni compresi facevano la colazione con questo prodotto, era un prodotto semplice perché era farina, acqua e olio niente di più con un po' di lievito e riuscivano a mangiare quello che dovevano sostenere per tutto il giorno perché più mangiavano queste cose e poi durante la sagra ci saranno, ci saranno quattro giorni ci saranno alliettati dalla musica come potete vedere dalla direzione parallela il primo giorno il secondo giorno dalle Out Live Music, poi c'è il Chic Live Band, il terzo giorno e la quarta sera ci sarà Vittorio il Fenomeno come da sempre, ci accompagna per il ventesimo anno Vittorio perché abbiamo voluto questa amicizia, vogliamo andare insieme a Braccetto questa sagra per la ventesima volta quindi spero che vengano tante persone da tutta la provincia, ci fa un piacere immenso